Ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Spazio Notizia che apriamo parlando di eventi, uno nello specifico il Lions Club Roccalumera Quasimodo ha premiato le eccellenze della fascia ionica, tra i premiati anche componenti del team Ferrari. Angela Patti, presidente del Lions Club Roccalumera Quasimodo, una bellissima serata, una cerimonia per le eccellenze ioniche. Chi è stato premiato in questa manifestazione? Sì, sono stati premiati sette persone della riviera ionica, noi ci siamo resti conto che in realtà dovrebbero essere molto di più, questa infatti è una prima edizione e speriamo già ci stiamo organizzando per una seconda edizione. La scelta al momento è dedicata su Andrea Campagna, Francesco Carrozzo, Giovanna Addiani, Diletta Lomonodo, Natalino Mirabile, Simone Prestia e Daniele VII. Il sindaco di Roccalumera Pippo Lombardo, oggi sono state premiate le eccellenze ioniche, ecco cosa pensa di questa manifestazione dei Lions? Ma intanto questo è soltanto l'inizio, come ho detto nel mio intervento, le eccellenze erano rappresentate simbolicamente dai ragazzi che abbiamo premiato stasera, ma rappresentano tutte le eccellenze che abbiamo sul territorio e sulla riviera ionica, quindi questo vuole essere solo l'inizio perché dobbiamo valorizzare e dobbiamo cercare di far uscire fuori dal nostro comprensorio quelli che sono i valori espressi da questi ragazzi, quindi stasera è soltanto l'inizio e grazie ai Lions e grazie ai cittadini di Roccalumera che ci hanno lanciato questa proposta e che ci hanno lanciato questa idea, noi partiamo per diventare un punto di riferimento per dare appunto lustro a chi merita di averlo. Rispostiamo a Taormina, parliamo di turismo. Mauro Romano ha intervistato Giovanni Emmi, esperto dei movimenti turistici, il quale ai nostri microfoni ha fatto un'analisi dei flussi del 2023 proiettandosi al 2024. Sentiamolo. Il 2024 sarà un anno molto importante per Taormina, sarà un anno importante per il turismo in generale, sia il turismo italiano, anche quello regionale, il turismo mondiale, perché? Perché mentre il periodo della pandemia ha fatto segnare il passo per quanto riguarda le presenze i flussi turistici. Nel 2022 abbiamo avuto un ritorno più o meno a dei livelli anti 2019, il 2023 c'è stata una crescita e quindi un consolidamento dei flussi turistici che ha segnato anche un incremento di presenza, soprattutto a Taormina, con dei risultati molto brillanti quest'anno che si avvia verso la chiusura. Il 2024 è un anno invece in cui è necessario certamente dare qualcosa in più per riuscire a continuare questo percorso in interrotto di crescita e quindi cercare non solo di consolidare le posizioni raggiunte, ma anche addirittura di superarle e migliorarle. Come fare per migliorare questo risultato? Il risultato può essere migliorato certamente investendo su quelli che sono i nuovi megatrend del turismo, come ad esempio la sostenibilità e l'unicità in generalità delle attività e quindi la possibilità di presentare una offerta turistica che punti essenzialmente su un turismo di tipo unico e esperienziale, quindi qualcosa di diverso rispetto a quello che ci è stato in passato, cercando in qualche modo di differenziare quella che è stata l'offerta in precedenza. Ad Acireale sono stati invece finanziati i lavori per la ristrutturazione dell'oratorio della comunità Santissimo Salvatore. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. Grazie ai fondi stanziati dall'8x1000 della CEI, Conferenza Episcopale Italiana, i locali dell'oratorio San Pietro della comunità parrocchiale Santissimo Salvatore di Acireale, siti in via provinciale per Santa Maria degli Ammalati, potranno essere ristrutturati ed essere fruibili alla comunità. L'importo dei lavori previsti in progetto è di circa 130.000 euro finanziati nella misura pari al 70% dalla CEI e per il restante 30% dalla parrocchia. L'intervento prevede il consolidamento strutturale dei locali di Ministero Pastorale, previsti inoltre lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche e la coibentazione del tetto. La consegna dell'oratorio è prevista entro l'anno 2024. I lavori da eseguire sono stati autorizzati dalla Soprintendenza ai beni culturali e ambientali e dagli uffici di curia della diocesi, dove è stata posta la firma che dà l'avvio al restauro. Presenti alla sottoscrizione Monsignor Agostino Russo, vicario generale, Don Angelo Milone, direttore dell'ufficio beni culturali, la ditta giudicataria e il parroco Don Francesco Mazzoli. Un'altra opera nella stessa comunità è già in esecuzione, il recupero della chiesa che sarà riconsegnata ai fedeli all'antico splendore del 1500. L'importo del progetto è di circa 270.000 euro finanziati dall'otto per mille con la stessa modalità dell'oratorio. L'edificio di culto sarà consegnato nell'anno 2025. La cronaca partendo da Palermo, dove sei persone sono state tratte in arresto con l'accusa di corruzione. Tra loro c'è anche un carabiniere. Per tutti i dettagli vediamo il servizio. I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo nei confronti di sei indagati ritenuti responsabili, a vario titolo, del reato di corruzione. L'attività di indagine, condotta dal personale della Compagnia di Palermo San Lorenzo e coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha consentito di acquisire un grave quadro indiziario sostanzialmente recepito nel provvedimento cautelare, circa la sussistenza di un rapporto corruttivo consolidatosi nel tempo tra un militare dell'arma e gli altri cinque destinatari del provvedimento, tutti già noti alle cronache, dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti. L'azione investigativa, portata avanti da gennaio a ottobre scorso, ha fatto emergere come il carabiniere avrebbe rivelato ai coindagati informazioni su indagini in corso, ottenendo in cambio imprecisate somme di denaro. Per tutti gli indagati, due dei quali già ristretti agli arresti domiciliari per altri reati, il giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere. A Caltagirone un 19enne nascondeva in casa oltre 3 kg di marijuana, è stato però beccato dai carabinieri, ovviamente tratto in arresto e poi condotto in carcere. Il servizio. Circa 3,5 kg di marijuana sono stati sequestrati dai carabinieri della stazione di Caltagirone. La droga, suddivisa in dosi, era nascosta in un fusto di plastica custodito in uno scantinato attiguo all'abitazione di un 19enne incensurato, il quale è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. Durante la perquisizione, i militari dell'arma hanno sequestrato 1000 euro in contanti ritenuti provento della vendita di droga, un modesto quantitativo di eroina, dei bilancini di precisione e coltelli. Nel tentativo di impedire l'accesso ai carabinieri nella stanza dove era custodita la marijuana, il giovane aveva detto di non essere in possesso della chiave della porta e che il locale era in uso a un suo zio. Alla presenza del familiare, convocato dagli investigatori sul posto, ha poi ammesso che la droga era sua. Nonostante fosse incensurato, il suo tentativo di depistare i carabinieri ha probabilmente contribuito a alla scelta della procura di Caltagirone di disporre l'arresto in carcere, dove è rimasto anche dopo l'udienza di convalida da parte del GIP. Caltagirone è a Catania, dove un ladro, dopo aver rubato degli indumenti all'interno di un negozio, è stato prima bloccato da alcuni passanti che avevano visto questa scena, poi ovviamente è stato arrestato dalla polizia. Personale delle volanti è intervenuto presso un'attività commerciale in piazza Ettore Majorana, dove era stato fermato un soggetto intento a perpetrare un furto. Giunti sul posto, gli agenti hanno bloccato un cittadino italiano con precedenti specifici e hanno preso contatti con il titolare dell'attività commerciale, il quale ha raccontato che poco prima l'uomo fermato era entrato in negozio con uno zaino che aveva riempito di indumenti esposti alla vendita per poi uscire senza pagare. In quel frangente, il titolare del negozio ha tentato di bloccarlo, ma è stato spintonato dal soggetto che è riuscito così a divincolarsi e a guadagnarsi la fuga, ma è stato immediatamente fermato davanti l'attività da alcuni passanti che si erano accorti di quanto accaduto. Il titolare del negozio ha formalizzato la denuncia e il malfattore è stato tratto in arresto per rapina. Di quanto accaduto è stato informato il PM di turno, che ha disposto di sottoporre l'arrestato alla misura cautelare dei domiciliari presso la propria abitazione, in attesa del giudizio di convalida innanzi al GIP. Restiamo a Catania, parliamo però di parcheggiatori abusivi, uno nello specifico che era stato più volte sanzionato dagli agenti della Polizia di Stato, ma continuava a svolgere questa attività illecita. Adesso per lui è stato emesso un dasco urbano. Vediamo tutti i dettagli nel nostro servizio. Continua incessante l'azione di contrasto della questura di Catania, imperfetta sinergia con le altre forze di polizia, al fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Il questore di Catania ha emesso un ulteriore provvedimento di divieto di accesso nel centro urbano, il cosiddetto DACUR, inibendo a un parcheggiatore abusivo di continuare a svolgere questa attività illecita che di fatto crea turbamento alla sicurezza e alla tranquillità pubblica. Il provvedimento è stato emesso nei confronti di una persona già sanzionata per otto volte mentre esercizionata abusivamente tale attività ed era già stata sottoposta nel 2020 a un analogo provvedimento mentre stazionava abitualmente in piazza Borsellino. Il soggetto non solo verrà segnalato all'ente competente ai fini della sospensione revoca del reddito di cittadinanza, ovvero ai fini della valutazione della non concessione del supporto per la formazione in lavoro o dell'assegno di inclusione, ma verrà valutata anche la sua posizione in ordine all'applicazione di una più afflittiva misura di prevenzione personale. Un arresto effettuato dalla Polizia di Stato a Siracusa si tratta di un 43enne che nella propria abitazione deteneva oltre 80 kg di esplosivo. Gli agenti della squadra mobile di Siracusa, con la collaborazione del nucleo artificieri della Questura di Catania e di personale della Polizia Scientifica Retusea, hanno arrestato un siracusano di 43 anni colto nella flagranza del reato di detenzione illegale di esplosivi. Il 43enne, già conosciuto alle forze di polizia, deteneva illegalmente circa 80 kg di esplosivo di genere pirico, tra cui un manufatto artigianale, 32 accenditori elettrici e svariati interruttori con telecomando a più canali per l'attivazione a distanza. L'arrestato custodiva il materiale in un garage ubicato sotto una ludoteca che veniva utilizzato come magazzino della stessa e come luogo di deposito del materiale esplodente, che pertanto rappresentava un grave pericolo, anche in considerazione del fatto che l'esplosivo era ammassato in spazi angusti, aumentandone così la pericolosità. Al termine delle incombenze di legge e su disposizione dell'autorità giudiziaria competente, l'esplosivo è stato sequestrato e affidato a personale del nucleo artificieri per la messa in sicurezza e la successiva distruzione. Restiamo nel Siracusano, ci spostiamo però virtualmente a Carlentini, dove un 52enne è stato tratto in arresto dai carabinieri e poi condotto in carcere. L'uomo è stato infatti condannato per commercio di prodotti contraffatti. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. I carabinieri della stazione di Carlentini hanno arrestato un 52enne del luogo in esecuzione di un'ordinanza emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Merese. L'uomo è stato riconosciuto colpevole di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, poiché aveva posto in vendita prodotti con griff contraffatte in occasione di una festa popolare nella provincia palermitana nel 2016. L'arrestato, già affidato in prova ai servizi sociali, dopo le formalità di rito, è stato associato presso la casa di reclusione di Augusta Brucoli, dove espierà il residuo della pena, così come disposto dall'autorità giudiziaria. Fermiamo qui per il momento è tutto, ma ci ritroviamo più tardi per una nuova edizione di Spazio Notizia. A dopo. Grazie.